Non si può fare tutto, ma quello che si può fare occorre indirizzarlo a favore delle imprese e del lavoro. Enrico Letta, vice segretario PD, rilancia il dialogo con la Confabi, presieduta da Maurizio Casasco, in un incontro finalizzato a individuare le priorità della politica per il rilancio delle piccole e medie imprese e dell'economia italiana. Pochi ma precisi i punti ritenuti più importanti dalla Confederazione ed esposti da Casasco nella sua introduzione. Maggiore e continuo coinvolgimento della Confabi ai tavoli istituzionali, introdurre un contratto specifico dimensionale, la progressività dell'IRES e aumentare per le PMI l'agevolazione ACE, un confronto nelle more della campagna elettorale sulle azioni che la politica può realisticamente intraprendere per dare respiro alle imprese italiane, tenendo anche conto della loro caratteristica, dimensione e settore. La Confabi incassa il consenso di Letta sull'attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, sul ripristino di una vera concertazione con le parti sociali e sull'impegno a ridare una speranza ai tanti imprenditori in grave difficoltà, pur nella consapevolezza di una situazione comunque difficile che non consente facili promesse. Impegno da parte della politica a non dimenticare le imprese e impegno di quest'ultime, per voce di Casasco, a portare un contributo attivo sulle scelte di politica economica del Paese.